I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania a Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di osservazione e pedinamento finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere Picanello, i militari dell'arma hanno notato il comportamento sospetto del giovane, il quale, dopo essere uscito da un'abitazione di via Faraci su uno scooter, si è diretto verso via Pidatella, dove ha incontrato un acquirente a cui ha venduto un pacchetto di marijuana in cambio di denaro. I carabinieri hanno interrotto l'operazione di spaccio, identificato il pusher e recuperato 60 grammi di marijuana divisi in nove bustine, oltre a 140 euro in contanti, provento della vendita della droga, nascosti nella sella dello scooter e nella tasca dei pantaloni del giovane. Le successive perquisizioni nella abitazione del 19enne hanno permesso di trovare un bilancino digitale di precisione, ulteriori 240 euro in contanti di vario taglio e una pistola a salve modello 92 calibro 9 con due caricatori e nove bossoli, nascosti in un armadio della camera da letto. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Grazie. Grazie.